Ciao a tutti! L'illuminismo sarà l'argomento di questo video. L'illuminismo fu un movimento culturale che si diffuse in Europa, soprattutto in Francia, a partire dal XVIII secolo. Quindi siamo nel 1700. L'illuminismo è stato definito anche il secolo dei lumi. Quali sono questi lumi? Il lume della ragione, perché poi in finte conti l'illuminismo fu questo, l'esaltazione della ragione. Quindi la ragione è una luce in grado di rischiarare le tenebre in cui era caduta l'umanità, soprattutto nelle epoche passate. Quali sono queste tenebre? Le tenebre dell'ignoranza, della superstizione, dell'intolleranza, del fanatismo. E secondo, partendo da una celebre definizione del filosofo Kant, l'illuminismo è l'uscita da parte dell'uomo dallo stato di minorità. minorità che l'uomo deve imputare a se stesso. Perché questa situazione di minorità? Perché l'uomo non è stato coraggioso, non ha avuto il coraggio di utilizzare che cosa? La ragione, di pensare. Quindi parlando dell'illuminismo vanno tenuti in considerazione questi due punti fondamentali. L'esaltazione della ragione e la critica nei confronti della tradizione. Gli illuministi avevano una visione estremamente negativa del passato, soprattutto del medioevo. Perché questo? Perché per loro il passato rappresentava ignoranza, fanatismo, intolleranza, superstizione. Soprattutto gli uomini delle epoche passate non è che non avessero la ragione. Anche un uomo del 1200 era dotato, aveva la ragione, aveva il pensiero, l'intelligenza. Soltanto che l'uomo non utilizzava la ragione. Aveva paura di pensare con la propria testa. L'uomo per gli illuministi era sottomesso, soprattutto a due autorità. Alla chiesa e al potere secolare, quindi l'impero. Ora le cose stavano iniziando a cambiare. Siamo tra l'altro in un periodo storico dove c'era stato comunque un aumento demografico, erano un po' migliorate le condizioni di vita, erano fortemente diminuite le epidemie, era migliorata l'alimentazione. Chiaramente non per tutti, siamo ancora in un'epoca dove comunque soprattutto il popolo e soprattutto le classi, i più poveri, vivevano comunque in condizioni di vita assai difficili. Però c'erano stati dei miglioramenti nel passato. E quando si parla dell'illuminismo, comunque quali furono le basi dell'illuminismo? L'essaltazione della ragione da parte di Cartesio e la rivoluzione scientifica operata da Newton e da Galilei. Quindi l'uomo, l'umanità, aveva fatto dei progressi. Perché erano avvenuti questi progressi? Per un motivo semplice, perché l'uomo stava finalmente iniziando a utilizzare la ragione, a pensare in autonomia con la propria testa. Loro perché ce l'avevano gli illuministi con la Chiesa, con il potere secolare, contro tutte le forme di superstizione, i miti, le metafisiche. Perché il potere aveva sottomesso gli uomini. Gli uomini del passato non pensavano, non ragionavano, facevano quello che diceva il potere. Quindi per gli illuministi la Chiesa diceva una tale cosa, gli uomini obbedivano ciecamente, non pensavano, non ragionavano, non si chiedevano ma mi stanno dicendo una cosa corretta, una cosa giusta. Nessuno si poneva questo pensiero. E la stessa critica loro la facevano nei confronti del potere secolare, dell'autorità politica. Ora invece cosa dissero gli illuministi? Il vento sta cambiando, abbiamo fatto dei progressi, l'umanità sta andando avanti. Tra l'altro proprio nel 1700 fu anche un periodo di scoperte. Solo per fare qualche esempio, Franklin scoprì il parafulmine, poi ci fu un medico inglese, Jenner, che scoprì che inventò il vaccino contro il vagliolo. In quel periodo il vagliolo, ma anche ora oggi in certe zone del mondo, vittime e vittime, morivano tantissime persone. Due italiani famosi, Volta e Galvani, scoprivano l'elettricità. Quindi erano state fatte tante scoperte a livello scientifico. Queste scoperte perché erano state fatte così dall'oggi al domani? A caso no, perché l'uomo aveva iniziato a utilizzare la sua mente, a ragionare, a pensare, a riflettere criticamente. Ed era questo il punto su cui battevano gli illuministi. L'uomo ha una ragione. La ragione è una luce, una luce in grado appunto di far sparire le tenebre dell'ignoranza, dell'errore, del fanatismo, della superstizione. Quindi l'uomo deve utilizzare questa ragione e la deve utilizzare in modo libero e spregiudicato. Cioè io ho un pensiero, io ho un'opinione, devo esprimerla liberamente, pubblicamente e nessuno mi deve venire a dire o a criticare o a condannare perché io ho detto una cosa che va contro il pensiero della chiesa o contro il re o contro l'imperatore. E gli illuministi battevano tanto su questo punto. Loro che cosa fecero? Innanzitutto l'illuminismo fu essenzialmente l'espressione della borghesia. La borghesia dal 500 in poi aveva vissuto un periodo di ascesa a livello politico, a livello economico. E i borghesi con chi ce l'avevano? Con la nobiltà, che ancora aveva una mentalità molto di tipo feudale, e con la chiesa. Quindi questi intellettuali si riunivano tra di loro nei salotti, nei caffè, dibattevano, parlavano, però volevano, volevano, diciamo, la diffusione delle loro idee. Nacquero infatti nel settecento le prime riviste, anche a livello scientifico e letterario. I primi giornali, spesso però questi giornali erano anche clandestini, perché erano giornali che attaccavano o la chiesa o il potere temporale. E in Europa si cominciò a formare una prima opinione pubblica, però non dimentichiamo che in ogni caso la stragrande maggioranza ancora della popolazione viveva nell'analfabetismo, quindi non sapevano, questi giornali si leggevano però poche persone, perché molti non sapevano né leggere né scrivere. E l'illuminista quindi può essere considerato una sorta di missionario laico. Quindi come il missionario cattolico, ancora oggi, e chiaramente in quel periodo, partiva per le zone più povere del mondo, per diffondere la parola di Dio, il Vangelo, aiutare i poveri, loro sentivano questa esigenza anche a livello laico, cioè diffondere le loro idee per liberare l'umanità, a cominciare dai più deboli, dai più poveri, dalla gente, dagli ignoranti, per liberarli dalla paura, dal fanatismo, da questa vita sottomessa, perché per gli illuministi l'uomo del passato era un uomo che alla fine era uno schiavo, era un uomo sottomesso al potere, era una sorta di servo della gleba, che faceva quello che gli dicevano gli altri, il potere, quello che poi la definizione di Kant, cioè l'uomo deve ragionare, deve pensare con la propria testa. Il motto infatti degli illuministi era sapere aude, cioè abbi il coraggio di conoscere, era un detto dello scrittore latino razio, quindi questa ragione poteva, gli illuministi quindi dicevano abbiamo fatto queste scoperte, l'umanità ha fatto dei progressi con le scoperte scientifiche, Galileo, Newton, siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare utilizzando soltanto la ragione, solo la ragione può fare progredire l'umanità, loro avevano questa fiducia illimitata nei poteri della ragione, la ragione se utilizzata bene poteva risolvere tutti i problemi dell'umanità e quindi portare l'uomo alla felicità, quindi la ragione poteva rinnovare tutta l'umanità a livello politico, a livello sociale, a livello culturale, a livello economico, però bisognava, doveva esserci il coraggio di utilizzare questa ragione in autonomia, in libertà, disinteressandosi di quello che diceva o la Chiesa o il potere laico, il potere temporale, quindi l'illuminismo fu questa grande esaltazione della ragione e questo creò dei contrasti anche con la Chiesa cattolica, perché gli illuministi, diciamo, credevano solo nella ragione, quindi dicevano l'uomo è autonomo, è indipendente, se utilizza la sua testa, l'uomo non ha bisogno di Dio, non ha bisogno di nessuno, può, la ragione può creare un progresso illimitato per l'umanità, quindi non c'è bisogno più di pregare Dio, di affidarsi a Dio, gli uomini del passato invece, soprattutto anche per le condizioni di vita spesso disperate, si affidavano alla providenza, si affidavano a Dio, gli illuministi dicevano no, dobbiamo utilizzare la nostra testa, dobbiamo ragionare, dobbiamo pensare, così ce la faremo da soli in indipendenza, senza credere in Dio, e gli illuministi spesso erano o atei, quindi non credevano completamente in Dio, oppure erano deisti, nel senso che loro credevano in un Dio soltanto creatore del mondo, un po' come il principio immobile di Aristote, per un Dio creatore del mondo ma che non si occupava delle vicende dell'umanità, a differenza invece della cultura cattolica per cui Dio si ha creato il mondo, ha lasciato gli uomini liberi, però Dio non ha abbandonato l'umanità, anzi ha mandato Gesù suo figlio proprio per salvare l'umanità, quindi Dio si occupa delle vicende umane, è questo che ho dei contrasti con la chiesa cattolica, anche perché poi in Europa nel 1700 nacque un'associazione segreta chiamata la massoneria, la massoneria era, diciamo, molti illuministi poi aderirono alla massoneria. La massoneria nacque a Londra nel 1707, era un'associazione segreta che si rifaceva alle corporazioni di mestiere del medioevo, il nome deriva da Macon, francese muratore. Quali erano gli obiettivi della massoneria, i punti principali? La lotta alla tirannia, la lotta all'assolutismo, infatti gli illuministi non ce l'avevano solo con la chiesa, ma anche col potere temporale, con l'imperatore, con quei sovrani che ancora, diciamo, avevano, credevano nel potere assoluto, quindi lotta alla tirannia, all'assolutismo, l'attenzione per i più poveri e bisognosi, il cosmopolitismo e la filantropia. Diciamo, questi erano i punti fondamentali della massoneria e gli adepti, i membri di questa associazione segreta, si aiutavano tra di loro ed erano divisi in tre gradi, c'erano gli apprendisti, i compagni e i maestri. I massoni avevano una visione diversa di Dio, per loro Dio era il grande architetto dell'universo, però loro non credevano nei dogmi della chiesa e quindi entrarono in contrasto con la chiesa. I massoni poi furono ancora oggi, tra l'altro chi aderisce alla massoneria viene scomunicato, è scomunicato in modo automatico e quindi questo contrasto tra la fede religiosa espressa dalla chiesa cattolica e invece la massoneria che rappresentava il pensiero laico. Ci fu questo forte contrasto e quindi per gli illuministi era l'esaltazione del ragione e la rottura radicale con il passato. L'uomo quindi doveva cambiare completamente mentalità, doveva iniziare a pensare in modo libero, in modo spregiudicato, esprimendo tranquillamente la propria opinione senza avere paura degli altri. Tornando dall'ambito religioso i massoni quindi criticavano tutte le chiese, non solo la chiesa cattolica, ma anche i lutirani, i calvinisti erano contrari ai dogmi, loro vedevano nel dogma un'imposizione, la chiesa, gli illuministi cosa dicevano? La chiesa sì c'è questo dogma, gli uomini ci credono, ci credono senza pensare, senza ragionare, senza dirsi ma la chiesa mi sta dicendo una cosa valida, una cosa che è sensata, oppure io non me ne obbedisco e non ci penso più di tanto. Loro invece gli illuministi dicevano pensa, ragiona, rifletti, usa la tua mente, non obbedire semplicemente perché te lo sta dicendo il re o te lo sta dicendo un sacerdote, cerca di capire, cerca di andare a fondo nelle cose, perché se tu, se l'uomo comincia davvero a ragionare da bene, a utilizzare in maniera seria la ragione, ci sarà un progresso illimitato in tutti gli ambiti della vita, politicamente, scientificamente, miglioreranno le condizioni di vita. Loro avevano, i luministi, questa credenza, questa diciamo forte fiducia nei poteri della ragione. A differenza delle epoche passate dove l'uomo, sì, chiaramente non è che gli uomini medievali non ragionassero, però era un'epoca dove comunque l'uomo era molto assoggettato, sempre secondo la visione degli illuministi, ha due grandi poteri, il potere dell'imperatore e quello della chiesa, del papa. E un punto su cui molto importante, che va tenuto in considerazione, era anche la tolleranza. Gli illuministi volevano creare una società tollerante, dove uno poteva, doveva poter esprimere la sua opinione, il suo parere, in modo tranquillo, senza che subire attacchi, possiamo dire in modo sereno. E su questo punto, sulla tolleranza, di questo punto si occupò molto un filosofo, diciamo uno dei maggiori esponenti dell'illuminismo francese, Voltaire. Voltaire parlò appunto tanto sulla tolleranza, lui disse, scrisse, che cos'è la tolleranza? È la prelocativa fondamentale dell'umanità, noi siamo tutti impastati di debolezze e di errore, perdoniamoci reciprocamente, è la prima legge di natura, cioè Voltaire cosa diceva? Siamo tutti uomini, sbagliamo tutti, siamo deboli, dobbiamo essere tolleranti tra di noi, dobbiamo sopportarci a vicenda, perché comunque oggi sbaglio io, domani sbagli tu. E Voltaire soprattutto si batte molto per la libertà di opinione, non solo a livello religioso, ma anche a livello, possiamo dire, politico. Una celebre frase di Voltaire. Cosa diceva Voltaire? Io non la penso come te, ma vi batterò affinché tu possa esprimere la tua opinione. Voltaire diceva, io parlo con una persona, non la penso come lui, anzi, magari per me quella persona sta dicendo una grande sciocchezza, però io mi batterò affinché tu possa esprimere il tuo perere, cioè tu devi essere libero di dire quello che pensi, devi dire la tua opinione. Poi io posso anche vederla in modo diametralmente opposto, però tu devi essere libero, devi dire la tua parola, devi poter parlare senza avere la paura di essere scomunicato, che poi c'è il processo per eresia, perché poi il re non ti può vedere. No, ognuno deve poter dire la sua, si deve parlare, si deve dialogare e poi tolleranza, ognuno magari resta della sua idea, però non ci deve essere più quella sottomissione, quella paura di non poter parlare. E questo perché? Perché noi, il solito punto dell'illuminismo, abbiamo la ragione, dobbiamo pensare con la nostra testa, quindi l'uomo deve uscire dallo stato di minorità, da questa sottomissione che c'era, perché nel passato, ripeto, l'uomo aveva la ragione, non è che gli uomini non avessero la ragione, però non la utilizzavano, non la utilizzavano, e per questo gli illuministi criticavano, il loro bersaglio era soprattutto il medioevo, ma non solo. E concludendo quindi, questa esaltazione della ragione, perché la ragione è una luce, e questa luce può rischiarare e rischiara le tenebre, le tenebre dell'ignoranza, dell'intolleranza, del fanatismo. Ricordiamo che, soprattutto in Francia, perché l'illuminismo si diffuse tantissimo in Francia, si veniva anche dalle guerre di religione, il massacro della notte di San Bartolomeo. Gli illuministi dicevano, ma stiamo scherzando qui, cioè, voi credete in Dio, parlate di un Dio di amore, di misericordia, e poi vi uccidete tra, perché quello è ugonotto, perché quello è così, ma dove stiamo andando? Assolutamente, cioè, non è questa la strada, questa è intolleranza, questo è fanatismo. Invece, l'uomo con la ragione può, l'umanità può progredire, può migliorare, loro avevano una fiducia immensa in questa ragione, però la ragione avrebbe potuto risolvere tutto, e chiaramente, perché entrano in contrasto con la Chiesa? Perché gli illuministi dicevano, c'è solo la ragione, l'uomo può fare benissimo a meno di Dio, non ce la possiamo fare in autonomia, non abbiamo bisogno di chiedere l'aiuto di Dio, che Dio ci illumini, che ci dia la forza di cambiare questo o quella cosa, no, l'uomo ce la può fare da solo, utilizzando la ragione, e questo chiaramente creò dei contrasti con la Chiesa, con la Chiesa cattolica. Va bene, alla prossima, poi con la continuazione sempre sull'illuminismo. Ciao a tutti!